ciao stefano ciao a tutti e niente cosa ti posso dire ti posso dire che abbiamo ho realizzato il mio sogno cioè quello di vincere la 24 di leman e che insieme a spa e a daytona adesso le ho vinte tutte e tre insomma sono decisamente contento ma per farciò ti garantisco che è stato un lavoro di squadra enorme e non è un solito modo di dire ma è la realtà dei fatti perché se anche noi piloti alla fine siamo quelli che siamo sono più in viste tutto quanto è stato fatto un lavoro incredibile da parte di tutti da parte di a f da parte di ferrari l'anno scorso la 24 ore non è andata come come volevamo e questo credo davvero sia stato un grosso stimolo per tutti noi ogni persona ma ti dico davvero ogni persona dal da noi piloti ai nostri capi a all'ultimo dei ragazzi che fa il lavoro più semplice ha messo qualcosa in più perché volevamo vincere a tutti i costi e e penso che questa cosa sia stata la cosa più importante per farci raggiungere l'obiettivo adesso beh adesso adesso ci godiamo la vittoria qualche giorno e poi se riparte perché nessuno sta fermo nessuno ti aspetta e come credo davvero se davvero è molto difficile difficile vincere specialmente a questi livelli contro contro tutti contro tutti i più grossi competitor i più grossi costruttori sarà ancora più difficile continuare a vincere ripeterci adesso abbiamo portato per una stagione gli allori sui camion del titolo mondiale quest'anno non è più se non sarà più sul nostro camion quindi c'è un altro obiettivo da da raggiungere un altro un altro target alla fine bisogna sempre imporsi qualcosa bisogna sempre pensare dove si vuole arrivare adesso il prossimo obiettivo rimettere gli allori del titolo del mondo sui nostri camion che ci stavano molto bene mi piacevano va bene dai grazie a tutti ci sentiamo presto ciao 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 ciao